Si è svolta ieri sera nei locali della parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto della Perriera la tombola di beneficenza organizzata dall'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita. Il ricavato è stato di 2.772 euro. Erano presenti più di 300 persone e altre che non hanno trovato posto a sedere. Gli sponsor sono stati oltre 150 che hanno assicurato alla serata circa 450 premi, da grandi e ricche ceste natalizie a gioelli in oro e corallo, da buoni spesa anche di importi consistenti a prodotti di elettronica, dagli orologi all'abbigliamento, ai libri e molto altro ancora. Essendo quindi tantissimi i premi in palio, tutti quelli che non sono stati vinti tra gli ambi e le tombole sono stati assegnati attraverso un maxi-sorteggio finale. Si è proseguito fino alla mezzanotte e quasi tutti i partecipanti hanno portato via un ricordo della serata, alcuni anche più di uno. La serata è stata animata dai cabarettisti di Vidi che ti passa, Luca Labarbera e Fabio Piazza, che tra un numero estratto e l'altro hanno intrattenuto e divertito tutti i presenti. È stata un'iniziativa ricca di solidarietà, beneficenza e anche di tanto sano divertimento e di premi. Grazie al ricavato, nei primi mesi del nuovo anno, l'Associazione programmerà i prossimi interventi solidali e certamente valuterà tutte le necessità del territorio in campo medico-sanitario, con particolare riferimento all'ospedale di Sciacca, e si valuteranno anche le proposte che giungeranno. Saranno certamente, come sempre, iniziative di utilità sociale, che avranno ricaduta sull'intera collettività, come per esempio è stato con i defibrillatori donati agli impianti sportivi locali, alla Croce Rossa e ad alcuni istituti scolastici. Il prossimo appuntamento sociale sarà con il premio alla solidarietà, in cui verranno premiati un volontario che ha assistito gratuitamente, e con particolare amore e dedizione un ammalato, e un professionista nel campo medico-sanitario, per avere mostrato particolare professionalità, sensibilità e abnegazione nell'esercizio della professione. L'Associazione Orazio Capurro Amore per la Vita ringrazia quindi tutti gli sponsor che hanno sostenuto la tombola, tutti i partecipanti, e in particolar modo Don Gino Faragone, per aver ospitato l'evento negli ampi locali della parrocchia, e i comici di vidi che ti passa per aver presentato e animato in allegria tutta la serata.